nella versione blu devo andare a controllare comunque sicuramente ci sono nella versione beige un cotone ottimo ma prima di farvi vedere il mio look of the day e di farvi vedere alcuni degli articoli che ci sono arrivati nuovi vi ricordo che se ancora non l'avete fatto andate, correte sulle nostre pagine di Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, RGN Lovers cercate il post della promo due e mezzo mettete il like e salvate il post perché così quando poi passate presso il nostro punto vendita ogni tre capi acquistati quello che costa di meno lo pagate soltanto la metà ed è vantaggiosissima ragazze vi dico che ne state usufruendo in tantissime fate bene ragazze fate bene allora look of the day di oggi la maglia in filo di cotone leggermente glitteratina finalmente sono riuscita a prenderla e a metterla con mia grande gioia ragazzi perché era filo di cotone io sapete non ero ancora riuscita a prendermela me la sono presa nella versione celeste mi piace tantissimo leggermente trasparentina ma nemmeno più di tanto comunque sono andata a metterci sotto una magliettina di quella a taglio vivo con lo scollo a barca che ci sono ritornate di nuovo disponibili che dopo vi farò vedere il modello ha la manica a tre quarti la lunghezza è quella giusta da poter mettere con un pantalone grazie al cannolè che rimane ultramorbido lo metto dentro al pantalone la vado leggermente a sblusare di suo è una maglia che è più lunghetta nella parte di dietro che quindi si può mettere benissimo anche con un jeans stretto con un leggings ragazze e vi va a coprire le chapette taglia unica essendo in filo ragazze neanche a dirvelo che questa praticamente veste tutte le taglie sta veramente benissimo indosso io quest'oggi sono andata a coordinarla con questo fantastico pantalone eccolo qui con l'elastico in vita con la catenella che ovviamente si può anche andare a togliere che è in taglia unica un ottimo cotone leggero con le tasche a destra e a sinistra ragazze tasche molto capienti ma che rimangono piatte che quindi eccolo lì quando lo andate ad indossare non vi vanno assolutamente ad allargare la gamba vedete però vi dico c'entra pure il mio telefono che bello grande ragazze taglia unica con una vestibilità incredibile eccolo qua guardate aspetta mi metto davanti allo specchio così facciamo le cose fatte bene vi dico che blu come quello che sto indossando io è in ordine ma al momento è terminato comunque ci ritornerà sicuramente disponibile al momento ce l'abbiamo nella versione sabbia che non traspare ragazze pur essendo un ottimo cotone fino e perfetto per tutta l'estate non vi va a trasparire anche se è chiaro nella parte di sotto troviamo un morbido elastico che mi dà la possibilità di andarlo a tirare su e di abbinarlo e di abbinarlo quindi facilmente anche all'anfibietto primavera estate vi ricordo che questi anfibi sono versione primavera estate perché non sono pesanti all'interno sono fantastici hanno la zip e i lacetti con cui li potete regolare e poi il celeste ci stava benissimo questo stivaletto ovviamente nella versione celeste è disponibile ma è disponibile anche nella versione rosa e anche le scarpe rientrano nella promo due e mezzo ragazze quindi è molto molto pataggiosa allora visto il mio look of the day di oggi vi dico velocissima vi faccio un recap di quello che ci è ritornato assortito e nuovo per quanto riguarda i jeans perché per quanto riguarda l'abbigliamento ragazze sicuramente non riuscirò a farvi vedere tutto anzi poco e niente credo però domani mattina sono qui pronta a farvi vedere tutto vi dico che mi sono disponibili e assortiti a partire dalla taglia 36 i jeansetti quelli a zampetta quindi medio alto di vita modello push up un semi elasticizzato che veste benissimo che sotto rimane più largo stretto fino al ginocchio e poi si va ad allargare ragazze questo è strepitoso per quanto è bello e ce l'abbiamo disponibile a partire dalla 36 di taglia fino a una 50 abbondante mi sono ritornati di nuovo disponibili e assortiti a questo punto ce l'ho dalla 36 fino a una 52 i jeans quelli a fascia modello push up che hanno le fasce laterali senza zip senza bottoni un pantaleggings di jeans che veste incredibilmente bene di nuovo riassortito tutte le taglie mi sono ritornati di nuovo disponibili riassortiti in tutte le taglie i modelli skinny jeans che c'è anche questo dalla 36 alla 56 alla 54 e ragazze vi dico che il modello dritto quindi non quello a palazzo non quello a zampetta non quello skinny ma quello che scende giù dritto dal ginocchio scende dritto e si appoggia sulla scarpa il modello anni 90 ragazze il vero jeans nasce così c'è ritornato disponibile anche questo dalla 36 alla 54 assortito nelle taglie nella colorazione jeans velocissima vi faccio vedere che mi è arrivato anche la marena come colore ma non ve lo faccio vedere adesso vi dico che mi sono ritornate di nuovo disponibili assortite le magliettine rigate modello girocollo in un tripudio di colori anche nelle colorazioni nuove guardate che delizia questo marroncino con il celeste nero con sabbia verde rosa arancio ragazze tutti i colori e anche della versione con il collo a vuo sempre leggermente laminatina in un'ottima microfibra ragazze che veste benissimo microfibra misto viscosa la perfezione per quanto riguarda le maglie perché rimane sacomata ma non vi va a stringere assolutamente in più vi dico che ci sono ritornati di nuovo disponibili i pantaloni di chambri le giacche corte che questa mattina tutte pazze per la giacchina corta in tessuto di chambri la giacca lunga che stiamo vendendo benissimo che praticamente vi vanno a sostituire se volete vestire un pochino più casual chic ma sempre di jeans ragazzi la giacchina di chambri o la versione un po' più lunga e la versione un po' più corta sono un perfetto sul rogato del giubbino di jeans soprattutto per quanto riguarda la pesantezza perché sono quelle che praticamente ve le portate avanti fino a settembre e la sera vi rivestono senza appesantirvi per quanto riguarda il pantalone chambri anche la nuova versione a palazzo con l'elastico in vita ragazzi questo è strepitoso ma ve lo farò vedere bene bene domani insieme a tutti quanti gli articoli che ci sono arrivati e nuovi e riassortiti perché adesso devo andare sono le 19.35 il punto vendita è ufficialmente chiuso io ho le tre spedizioni da fare mi raccomando ricordati RGN Lovers su Instagram Facebook YouTube TikTok prima di tutto segui ovviamente secondo cerca la promo due e mezzo il post della promo due e mezzo metti il like e metti il salva così quando passi qui presso il nostro punto vendita ogni tre capi il meno caro lo paghi soltanto la metà da Emanuele è tutto RGN Lovers c'è a domani io vi aspetto a martedì a partire dalle 9.30 fino all'ora di pranzo e poi dalle 16 alle 19.30 ciao ragazzi buonasera e buon lunedì 13 di maggio ore 19.20 circa ragazzi sono in velocità perché siamo a ridosso della chiusura devo fare tre consegne gratuite come sempre qui nel comune di Fiano ragazzi vi ricordo è possibile richiedere la consegna gratuita e oggi ne devo fare ben tre quindi veramente in velocità perché ho degli appuntamenti che vanno dalle 7.45 circa fino alle 8.20 vi devo far vedere alcuni degli articoli innanzitutto vi dico che oggi abbiamo avuto un grande scarico ecco perché è così tardi perché ho appena finito di sistemarlo e di ripristinare un po' di ordine al negozio di riassortire un po' di cose vi devo far vedere il mio look of the day di oggi che è stato perfetto per questa giornata finalmente si stanno alzando le temperature e anche io posso vestirmi un pochino più leggera e con questa magliettina in filo di cotone sono stata benissimo quest'oggi ma soprattutto con questi pantaloni nuovi ragazze che già mi sa che ho grazie a tutti